Il cordulegasser boltoni o guardaruscello comune è una grande libellula di circa 8 cm di lunghezza e 10 di apertura alare. È di colore nero con nette striature gialle sul torace e addome e non c'è un evidente dimorfismo sessuale, cioè masco e femmina sono simili. In Italia si incontra in tutte le regioni del centro nord, dove vive in piccoli corsi d'accombreggiati e a fondo sabbioso, dalla pianura fino a circa 1300 metri sul livello del mare. Vola da maggio a settembre con picco a luglio e agosto. I maschi pattugliano incessantemente i ruscelli, seguendo il corso d'acqua a pochi centimetri dalla superficie. Le femmine depongono le uova, senza la protezione del masco, come invece accade in altre specie di libellule, con un volo molto caratteristico. Tenendo l'addome in posizione verticale, si librano alzandosi e abbassandosi fino a toccare con l'estremità dell'addome il fondo sabbioso, dove depurranno un uovo alla volta.